Fa bene essere contento, ma è una buona notizia in realtà per l'area dell'euro nel suo complesso, perché quello che noi dobbiamo cercare di sconfiggere è lo sbilanciamento nelle dinamiche economiche, nei tassi di crescita, cioè non possiamo essere un'eurozona che è attrazione della crescita di un solo paese, quindi tutto quello che ribilancia i tassi di crescita li distribuisce nell'economia dell'eurozona, tra la Germania, la Francia e naturalmente noi stiamo lavorando perché l'Italia sia parte di questo ribilanciamento, è favorevole, facilita la politica europea e rende il processo di convergenza più semplice. Quindi è una buona notizia non solo per la Francia, ma in generale per il ribilanciamento dell'eurozona. Ribilanciate allo 0,6% però. Va bene, ci proviamo, ci dia tempo che ci arriviamo. Ma è simpatico, quando la Germania scende non commenta, quando la Francia sale grandi festeggiamenti. No, non festeggiamento. E' l'0,6% come i dati sulle scopazioni, quando escono non è niente. La ragione è anche guagliariello sul fatto che però l'opportunità politica... No, ma no, è una questione dell'opportunità politica. Lei mi ha chiesto un parere, io capisco che è un po' sofisticato per Federica, ma purtroppo il parere è questo. No, hai ragione, soltanto le grandi menti del PD possono ragionare. Scusami, starò zitto? No, no, no. E capisco che voi menti sofisticate potete ragionare, noi invece poveri, gente del popolo, non possiamo confrontarsi con voi. No, no, è una questione di gente del popolo. No, hai ragione, la mia mente è un po' sofisticato. Noi sappiamo, Federica ha una cosa che a voi mi interessa. Scusami, la mente è sofisticata, grazie di essere... Federica ha creato con noi, con estrema umiltà che hai messo sul nostro lavoro. No, Federica, se intervieni però riflettici. Grazie a mente sofisticata.